E' uscito il nuovo Akai APC64. Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Claude. Akai APC64 controller per Ableton con sequencer potente e innovativo con 64 tasti RGB sensibili ai velocity pad, al poly aftertouch e capacità di controllo e di esecuzioni senza precedenti. Andiamo a vedere? Akai sporna questo APC64 dalla forma bella accattivante che può essere usato sia nel studio sul palco e permette di portare tutte le vostre creazioni musicali e le vostre live performance a nuovi livelli. Dotato di una matrice di 64 pad 8x8 RGB sensibili alla velocity con poly aftertouch che ci servono per riprodurre clip di Ableton tutte le scene ma anche per poter suonare batterie elettroniche in modalità drum e accordi e melodie tramite la modalità notes and chords. L'APC64 include anche una copia di Ableton Live completa di una collezione di plugin di Air Instrument e Sonyvox che spazia dai classici sintetizzatori e tastieri agli effetti d'avanguardia vintage. E se non bastasse è inclusa anche sample tools di CR2 che comprende un altro giga di loop e campioni di batterie. Eccolo qua APC64 Next Generation Ableton Live controller che grazie al display a colori alla manopola dell'encoder avremo sempre un feedback visivo in tempo reale e potremo sapere che cosa stiamo controllando e a che punto sono i nostri livelli. Sì grazie anche agli 8 touch strip che li vediamo qua nello specifico laterali completamente assegnabili che ti danno la possibilità di controllare qualsiasi parametro in tempo reale dai parametri dei VST, dei virtual instrument a tutti i volumi delle tracce nel mixer, dei device, effetti vari. Acai APC64 è inoltre dotato di uno step sequencer integrato per la creazione di melodie e pattern di batteria che può essere usato anche in assenza di computer così da poter inviare sequenze, melodie e quant'altro alle due porte MIDI out e alle 8 uscite CV gate per poi trasformarle in suono con i tuoi synth, drum machine, hardware. Ed ecco qua la parte posteriore dove vediamo ingresso e uscita Kensington lock classico, gli 8 CV gate dietro nella parte posteriore, l'ingresso USB e l'alimentazione. Questa è la parte frontale con tutta la session view, la note mode, la chord mode, lo step sequencer, il project, il custom, stop play e registrazione, le varie possibilità di lancio e tutta la sessione inferiore con il record arm, il mute, il solo, lo stop delle varie clip e tutte le sessioni laterali. Gli 8 touch strip che vediamo, 4 nella parte sinistra e 4 nella parte destra e l'encoder. Quindi l'APC64 non è solamente un controller MIDI ma anche un sequencer autonomo con funzionalità di controllo hardware esterno e grazie alle porte MIDI multiple che abbiamo visto e alle uscite separate è possibile collegare sintetizzatori, drum machine e il proprio impianto modulare per un controllo e una versatilità maggiori. Modalità note chord per ispirare la creatività non solo offre un ampio controllo su Abiton Live ma offre anche potente funzioni di produzione e performance per scrivere melodie uniche, progressioni di accordo e darvi la possibilità e ispirazione di fare cose nuove. Potete catturare all'istante le vostre idee tramite il sequencer interno a 8 tracce e 32 bit che vi permette di comporre la vostra traccia senza fatica. Controlli di trasporto e strumenti di navigazione dedicata. Con la CAI APC64 è facilissimo navigare. I pulsanti di avvio delle scene che vedete qua lateralmente, controlli di trasporto con i tasti dedicati, stop play e registrazione per andare a risparmiare tempo e fare tutto dalla macchina. Sequencer stand alone e controller hardware esterno. La PC64 non si limita solo a controllare Abiton Live, funziona anche come sequenze stand alone e fordisce il controllo dell'hardware midi per le performance senza la vostra DAW, cioè Digital Audio Workstation, il vostro programma di lavoro. Potete alimentare la PC64 direttamente tramite l'USB, collegare i vostri sintetizzatori e via. Lo step sequencer offre fino a 8 tracce con 32 bit e una polifonia di 16 note per ogni traccia. Il controllo continuo tramite le 8 touch strip laterali che consente di modellare il suono con precisione. Completo di Abiton Live il pacchetto di liberire di suoni plug-in Lite e VST, accompagnato come detto dall'Abiton Live Lite, quindi la versione base di Abiton, dove potete sfruttare tutti gli strumenti all'interno di questa versione. E per aumentare la vostra possibilità creativa, la PC64 è dotata di una suite di strumenti ed effetti plug-in. I strumenti Air e VST AU della Sony Vox offrono una varietà di tastiere classiche, sintetizzatori, riverberi, elaborazione vocale, effetti vintage da aggiungere ai plug-in standard e in più un gigabyte di sample tools come detto by CR2. Prima di vedere le specifiche tecniche, il prezzo di 399,99€ in uscita. Specifiche tecniche, display LED grafico a colori, entrata di connessioni USB-C, 8 connessioni retro CV gate da 8,8 di pollice, uscite midi da 3,5 mm e un ingresso midi da 1,8 di pollice, 3,5 mm. Le dimensioni 272 mm x 371 mm x 34,5 mm. Peso di 1,6 kg e requisiti del software Ableton Live controllo Ableton Live. E la PC64 richiede live 11 o superiori. E ricapitolando, midi USB tipo C controllo per Ableton Live, controllo approfondito di Live 1 to 1, 64 pad sensibili alla velocity con poly aftertouch, modalità clip, notes, chord, drums, pattern, sequencer, controllo approfondito di Ableton Live, 8 touch strip assegnabili per controllo mixer e device, display a colori con manopola encoder per feedback visivo in tempo reale, funzioni probability mutate per sperimentazione creativa, trasporto e funzioni di stop play record, sequencer a 32 step integrato, 8 tracce, 16 note di polifonia, swing, lunghezza e divisione del tempo, puoi staccare il tuo computer e collegare Synth drum machine, due porte midi out e una midi in sulla parte posteriore, 8 uscite cv gate separate, mini jack da 1,8 di pollice, porta USB tipo C compatibilità con Ableton Live dalla versione 11 in poi ed in dotazione Ableton Live Lite 11, Sony Vox il pacchetto Air, la suite e 1 GB di Sample2 CR2 record. E allora tocca a voi adesso vedere se vi interessa oppure no, se volete cambiare il vostro controller per Ableton o magari andare ad implementare con questo. Akai APC64 ci piace? Fateci sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Corsi per DJ, corsi di produzione musicale, potete fare tutto online con il sottoscritto contattandomi nella sezione contact, compilando il form oppure tramite le nostre pagine social. Per chi sono indicati i corsi, per chi inizia da zero, per chi è già bravo e vuole migliorarsi e per chi vuole fare il salto definitivo di categoria verso il professionismo. Consulenze su tutto l'armamentario di OSOS4DJ, tutto quello che ci serve e vi serve per crescere, comprese le tematiche legali da sapere per suonare in regola. Oltre al nostro Facebook e Instagram c'è anche il nostro canale TikTok, vai e iscriviti, follow us, ma anche la nostra community Telegram che ci dà la possibilità di rimanere in contatto con notifiche silenziose e una chat interna. Il nostro sito ufficiale vai e iscriviti, importantissima l'iscrizione per farci crescere, darci quella botta di autostima, ma puoi anche abbonarti, valuta la corsia preferenziale, vatti a vedere il video esplicativo. Tantissimi video tutti in stile DJ e produzione musicale, parliamo solamente di questo, ci dedichiamo anime core solamente a questo. Tutto diviso in playlist, ti puoi cercare solo quello che ti interessa. Oltre a tutto questo c'è anche l'ufficial merchandising con la linea Anyway I Play What I Like, suono solo quello che mi piace, tutta la linea OSOS4DJ. Vuoi sempre sapere tutto ciò che accade sul canale in tempo reale? Clicca sulla campanella e così sarai informato, ma anche puoi mettere un mi piace o condividere con chi vuoi e ci farai sicuramente piacere. Come ci farai piacere? Se ci aiuti tramite Paypal, qua sostieni il canale SOS4DJ e lo puoi fare anche tramite i super grazie qua sotto. APC64, nuova macchina di Akai disegnata come sempre per Ableton, che può essere molto utile a molti di voi che avranno già la culina in bocca. Bene, allora fatemelo sapere qua sotto nei commenti tutte le vostre impressioni in merito. Da parte di SOS4DJ e Claude vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una bellissima giornata e ricordandovi l'iscrizione al canale che per noi è veramente importante, a voi non costa niente, per noi è un bel attestato di stima. Ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio. Piripiribim, boom! Ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio.